Sì, l'altra settimana noi abbiamo chiesto di un giorno il vicepresidente dell'International di GCI e poi abbiamo chiesto di un giorno prima e poi abbiamo chiesto di un luogo anche il vicepresidente dell'International di GCI anche e poi abbiamo chiesto di pagare parte dell'International di GCI del Carribean e abbiamo chiesto di un abonero, abbiamo gestos e gestos prossimi in cui abbiamo chiesto di un allenamento, ma anche abbiamo chiesto di un'anno nel momento di informazione. Durante la settimana, il cominciamento dell'altra settimana, abbiamo chiesto di un'invitaio per essere interessati e sicuro per assistere a noi qui e siamo a noto di stare e diciamo, siamo a chiedere, ma anche se ci sono e è un momento di sicuro di tutorial e di prendere informazione e se non ci hai mai delle organizzazioni, sicuro il suo metodo è di creare La gente crea leader in la comunità, leader non è solo un personaggio di direzione di un paese, ma leader di un essere umano come un sero umano, arriva al momento, e è stato un leader in Oroco, in modo da formare parte di questa maniera GCI, sicuramente non è stato costruito qui, in modo formato.